Buongiorno a tutti, in questo video vedremo i miglioramenti apportati alla funzione distanza presente nel foglio di progettazione. Il tasto di cui parliamo si trova in basso a sinistra e ci consente di quotare la tipologia usando dei punti personalizzati. Per esempio vogliamo avere la misura interna del telaio, quindi clicco sui due punti e praticamente possiamo andare a visualizzare quella che è la quota che il programma ci mostra a video, 1094. Questa quota inoltre è possibile registrarla e quindi potrà essere anche stampata all'interno dei documenti che genera opera. Quindi se la registriamo e la andiamo a posizionare all'interno del foglio di progettazione la schermata dati quota ci consente di inserire inoltre una descrizione aggiuntiva alla quota che abbiamo registrato. Quindi misura interna del telaio. Questa quota appunto come possiamo vedere viene visualizzata qui in alto e verrà appunto come dicevo precedentemente stampata all'interno dei documenti. La funzione distanza inoltre attraverso i punti colorati in verde ci consente di avere il riferimento della quota quindi per esempio struttura, interno telaio, anta, interno anta, interno specchiatura o per esempio quota serratura. Quindi al momento in cui prendiamo una quota noi sappiamo che quel riferimento in questo caso è dedicato alla misura dell'anta. Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro.